si no ma le fermo il can non lo so ah che c'è un fa che c'è un faggiano morto che c'è una faggiana morta no ma che c'è una faggiana morta la vedo qui ma se dura da un tocco questa qua eh dai che qua ma non sia calda no 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 non è calda la vedo rigida io la ciappavo ancora subito era stamattina se è calda qua dai andiamo sotto ora a questa stagna dai via dai via dai dai via dai via dai via dai vi Grazie a tutti